Buonasera, ben trovato, un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa, ben trovato Paolo. Ciao Simone, buonasera a tutti. Un altro appuntamento che ci permetterà di approfondire un tema di grande interesse, perché stasera parliamo di giovani, di ragazzi, soprattutto cerchiamo di affrontare quella età di mezzo, spesso anche i pedagogisti, gli educatori la chiamano così, un po' di passaggio tra l'essere bambini e l'essere ragazzi, adolescenti, quindi già anche con una prospettiva diversa. Ne parliamo perché da domenica il 16 partono in diocesi, proprio su volontà del nostro Vescovo, gli incontri con i Cresimandi e con i loro genitori. Un bel appuntamento, ormai ha già qualche anno di storia, che si conferma proprio perché ha ottenuto il consenso dei ragazzi e anche dei loro genitori, per cui un'occasione per incontrarsi, per riflettere, per fare un po' di strada insieme in una domenica pomeriggio. Ci saranno tutti i vicariati coinvolti in tre domeniche, l'una successiva all'altra, sono veramente tantissimi, quindi poi daremo anche qualche numero. Per parlarne, per parlare soprattutto delle sfide educative che riguardano i giovani che hanno questa età, questa sera sono qui con noi Don Daniele Giunchi, che è direttore dell'ufficio catechistico diocesano. Don Daniele, ben trovato, grazie di essere con noi. Al tuo fianco una coppia, moglie e marito, ma nella vita anche animatori di un gruppo di postresi, ma oltre che ad essere genitori, che sono Fabrizio Ugolini e Luisa Bellucci della parrocchia di Sant'Agostino. Benvenute, grazie di essere con noi. Ancora un altro ospite, una catechista della parrocchia di Sant'Andrea dell'Ausa, il crocifisso, Luisa Manenti. Benvenuta Luisa anche a te. E poi chiudiamo, in realtà una coppia, anche se probabilmente parlerà solo mamma Lucia, Lucia Vichi, catechista della parrocchia di San Raffaele. Benvenuta Lucia, grazie. Ciao Anna, benvenuta anche a te. Ciao. Abbiamo un ospite d'eccezione questa sera. Partiamo subito, Don Daniele. Questi appuntamenti, voluti anche con forza dal nostro Vescovo Francesco e che si ripetono negli anni perché effettivamente sono una bella occasione di incontro. Funzionano. Funzionano. L'esperienza mia è da poco tempo, dall'anno scorso, e il bilancio è estremamente positivo. È positivo perché i genitori escono da quella provocazione e da quella preghiera che avviene in Duomo, a volte anche quei goccioloni. Se vengono riportati in una dimensione di fede che non sempre è alla portata del quotidiano, escono da lì anche con qualche buon proposito. Riguardo ai ragazzini, incrociamo le dita perché ogni anno è una sfida, l'anno scorso è andata bene. Abbiamo fatto vedere una serie di video, qualche canzone, un discorso che fa da unità, un percorso sulla felicità quest'anno. Speriamo. Don Daniele, anche perché lo dicevi, invitiamo i ragazzi anche per raggiungere i genitori, perché sappiamo che i papà e le mamme, quando la cosa riguarda i loro figli, forse sono anche più proattivi che solo venissero invitati loro a venire ad incontrare il Vescovo. Certo, i ragazzi hanno fatto un percorso per arrivare alla cresima, quindi settimanalmente li vediamo nelle parrocchie. I genitori, sarebbe bello che fosse così, ma non è sempre così. Quella è un'occasione che il Vescovo vuole, visto che non può arrivare in tutte le parrocchie a fare le cresime, non può parlare a tutti i genitori direttamente, per dirgli quello che gli sta a cuore. E i parrici utilizzano questo momento per creare un dopo. Ci sarà un dopo cresima per i ragazzi, ma anche un qualcosa per i gruppi famiglie. Possiamo anche svelare un retroscena. Quando il Vescovo ha lanciato quest'idea degli incontri per i cresimandi, c'era un po' di scetticismo anche in lui stesso, perché era una proposta tutto sommato nuova che andava davvero a dei numeri molto alti, perché parliamo di 2.500 ragazzini e quindi un numero enorme di genitori. Per cui ogni domenica mille genitori in Duomo e 500 ragazzi a fianco sono un numero davvero molto alto. Ma soprattutto che risposta avrebbero dato i genitori? Dopo qualche anno che ormai è diventata una tradizione, davvero possiamo dire che è una bella risposta, perché basta entrare nel Tempio Malatestiano durante una di queste domeniche, la prima cosa che colpisce è il grandissimo silenzio, la partecipazione totale delle persone che sono state invitate e coinvolte in questo momento. E poi delle testimonianze davvero molto belle, ordinarie, ma nello stesso tempo straordinarie, perché dove c'è la fede si illumina davvero la vita. E poi un bellissimo rapporto da parte dei genitori del Vescovo e dei figli che poi alla fine ricompongono il mondo. Ci si incontra tutti insieme, proprio così. Don Daniele, tra l'altro il Vescovo li ha invitati i ragazzi e i loro genitori e lo ha fatto in un modo tutto speciale. Un doppio invito, un pieghevole che ho qui intitolato Una cosa so, ora ci vedo. Parte dal brano del Vangelo del cieco nato e cerca di provocare i ragazzini proprio sul vedere. Tante cose vediamo, molte con gli occhi, molte con la mente, poche col cuore, poche ci coinvolgono sul serio. La provocazione è guarda veramente a quello che conta, cerca la felicità, ringrazia il Signore di tutto quello che ti ha dato. E l'invito è, vieni domenica, ne parliamo insieme. I genitori ricevono un altro invito, gli viene chiesto, trova un po' di tempo in casa una sera per leggere questo pieghevole con i tuoi figli. Col tuo figlio che fa la crisi, ma con la tua figlia che fa la crisi. La forza sicuramente dell'incontro con i ragazzi e con le loro famiglie, Don Daniele è rappresentato dallo stuolo di catechisti e di animatori della nostra diocesi. Con passione, con entusiasmo, con gratuità, che è una parola molto interessante oggi, tantissimi si spendono. Quindi abbiamo un esempio, Fabrizio, partirei da te, una storia parrocchiale di tanto tempo, la scelta insieme a tua moglie anche di seguire oggi un gruppo che è di post-cresi, ma questi ragazzi che avete accompagnato alla crisi. Ma che cosa è nato con loro? Che sfida bella avete incontrato in questo rapporto con i ragazzi? E poi magari raccontiamo anche del rapporto nato con i genitori, perché a vostra volta siete genitori di ragazzi più o meno di quell'età. Sì, sì. Allora, è nato un rapporto che ovviamente ci vedono come adulti, i nostri ragazzi, però li sentiamo comunque vicini. È un rapporto particolare, speciale. Cerchiamo di ovviamente essere alla debita distanza, perché ovviamente non vogliono essere assaliti da chissà quali impegni. Cerchiamo di proporre dei piccoli impegni e ovviamente cerchiamo di entrare un po' nei loro meccanismi. Dobbiamo come adulti per forza riuscire ad allinearci a quelle che sono le loro richieste, quelle che sono anche la loro richiesta di felicità. A volte dobbiamo mettersi in gioco, anzi, molto spesso dobbiamo mettersi in gioco come adulti. Quello che rimane è comunque, non so, vorrei chiamarlo sentimento. Poi non so come, se si potrà mutare in amicizia. Comunque è un rapporto che è nato, che sta nascendo, che cerchiamo di portarlo avanti. Vediamo un po', perché appunto essendo genitori e catechisti abbiamo questo doppio ruolo che facciamo un po' fatica a distinguere i due. Però, insomma, cerchiamo di mettercela tutta. Vediamo che comunque a casa i risultati sono altalenanti, come genitori. Abbiamo la fortuna di avere un bel gruppetto, insomma, come ragazzi. Un po' perché sono affiatati dalla scuola, perché vanno a scuola insieme. Quindi noi siamo stati fortunati, a rispetto magari di altri nostri gruppi che ci hanno preceduto. E loro sta la gioia di ritrovarsi, insomma. Quindi la gioia che compone il gruppo, quindi di essere amici, soprattutto. Cerchiamo di farlo, siccome anche noi proviamo da un'esperienza simile come gruppo parrocchiare, cerchiamo di portare avanti quello che per noi ci ha coeso, insomma. Quindi il fatto di vivere l'amicizia, ecco, prima di tutto e poi. Poi, ovviamente, cercando di essere noi stessi, quindi trasmettendo il nostro esempio, la nostra fede. Io faccio la spia. Fai la spia, Daniel. Perché loro non solo vedono i ragazzi il sabato un'oretta, ma si sono inventati un modo particolare, in due fasce orarie della giornata, per parlare con loro. Ma lo raccontano loro. È una cosa molto bella. Sì, raccontate, raccontate. Niente di che, ma ovviamente quello che dicevo prima, allineandoci un po' a quelle che sono la loro vita, anche a livello di tecnologia, il catechista o il dittatore. Quindi siete sui social network, siete entrati, Luisa, direttamente su qualche social. Sì, abbiamo fatto un gruppetto su WhatsApp, c'è un amministratore ragazzino, ci ha messo tutti insieme, c'è anche Don Daniele, e abbiamo messo anche delle regole, per non far sempre scugliare il telefono, perché dopo i ragazzi, insomma, messaggiano ogni ora. Allora abbiamo detto, mandiamo comunicazioni, chattiamo, dalle alle, in qualche fascia, per le determinate fasce orarie, e così ci mandiamo avvisi, facciamo chiacchierati, indovinelli, anche barzallette, insomma, modo per rimanere un po' in contatto. Poi non sempre tutti si fanno sentire, però comunque quella è una maniera per far sapere che c'è. E anche per così, delle volte, mettessimo in contatto con chi magari si isola, oppure magari decide di non venire più, di non frequentare. Ma succede che qualche tema, non so, uscito su WhatsApp, poi si riprenda a sabato all'incontro, quando ci si vede? Ma non proprio, perché sono più cose frivole, insomma, su WhatsApp si rimane un po' così, dai, sullo schermo. Nella leggerezza. Nella leggerezza, le cose serie le facciamo in quell'oretta d'incontro, dove cerchiamo appunto di catalizzare un po' l'attenzione dei ragazzi, stiamo utilizzando strumenti come i video, le canzoni, c'è cose che a loro piacciono e con le quali è possibile comunicare, perché chiaramente aprire un libro o fare una cosa tradizionale, insomma, ormai non prende più. Oggi effettivamente può essere una... E quindi siamo dovute anche non puoi adeguare alle nuove situazioni, insomma. Una catechista molto giovane, Lucia, perché, vero, 36 anni, sei poco più grande dei ragazzi che prepari per la crisi. Ma che esperienza è la tua? Dunque, la mia è un'esperienza bella e adesso mi ha colpito molto quello che diceva Luisa, io concordo, cioè ormai impostare la catechesi sui meri, diciamo, contenuti della fede, che con i ragazzi non funziona più, cioè i ragazzi deve passare una testimonianza di vita, una disponibilità veramente a 360 gradi, quindi l'incontro dell'oretta del sabato non è assolutamente sufficiente. Si devono sentire cercati e si devono sentire preziosi, anche quelli che vengono poco, in terza media, poi capita che dopo la crisi, ma la maggior parte lasciano, no? Però dicevo prima anche con Elisa, io spingo molto affinché comunque lì si cerchi, no? Gli si dica, guarda che noi ci vediamo, noi ci siamo, noi siamo qui, perché comunque secondo me loro hanno il desiderio di sentirsi preziosi, di sentirsi cercati. Essere cercati, infatti Elisa anche a te vorrei fare questa domanda, cioè per i ragazzi quanto è importante? Cioè la domanda che senti da parte loro più pressante nei tuoi confronti, quella che ti interroga e magari ti mette anche in discussione di più. Certo, infatti è vero che tu puoi passare con loro tutto quello che vuoi, gli puoi parlare di Gesù, gli puoi parlare anche di cose anche molto serie, i ragazzi ti seguono, ma ti seguono se sentono che tu sei lì per loro. Oggi come oggi secondo me molto di più di una volta questa cosa è diventata fondamentale, forse perché il mondo degli adulti in generale è un po' più distante da quello dei ragazzi di una volta, anche a livello penso di scuola, anche ambiti educativi per eccellenza, però in realtà forse per una difficoltà io non giudico nessuno, però si è creato negli ultimi anni un po' di distacco, soprattutto per questa fascia delle medie, perché alle elementari ancora sono bambini, alle superiori è più facile rapportarsi, perché hanno già anche loro degli strumenti anche razionali, questa è un'età un po' difficile, io ho anche molti colleghi che insegnano alle scuole medie e ci mettono tanta passione, ma è un'età veramente complicata, poi trovi il ragazzino che è maturo e quello che magari è ancora bambino, quindi all'interno anche dello stesso gruppo, quest'anno seguo un gruppo di prima media che si prepara la cresima, c'è un abisso e quindi è difficile. Anche la differenza tra maschi e femmine tra l'altro in questa età. Questa è fondamentale, però come diceva prima anche Lucia, l'essere con loro, loro sanno che noi ci siamo. Guarda, noi adesso abbiamo fatto una o due giorni in parrocchia, eravamo veramente tanti e abbiamo coinvolto per la serata anche i genitori, eravamo più di cento, chiedendo ai ragazzi di mettersi in gioco, l'abbiamo fatto noi facendo delle scenette, delle cose, ma la presenza non era di fare uno spettacolo, volevamo proprio dirgli, ragazzi noi dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo formare una comunità, perché voi adesso vi preparate alla cresima e la cresima vuol dire questo, che voi dovrete testimoniare a tutti quelli che vi incontrano che voi avete incontrato Gesù, ma per farlo è più bello farlo insieme e noi lo facciamo nel gruppo, ma dobbiamo diventare comunità, una vera chiesa, anche con gli altri, anche con gli adulti, con tutti. E' stato bellissimo vedere come si sono messi in gioco in una maniera incredibile, e poi c'era una sintonia anche con i genitori, con quelli che erano nel pubblico, come si guardavano uno con l'altro, cioè è stata proprio un'esplosione di gioia. E cosa è bastato? Che io e l'altra educatrice che era con me, ci siamo presentate vestite da sera con le cuffie da montagna, ecco è già questo scatenato la risata, cioè ci siamo buttate noi per primo. Ebbè certo, la vera sfida è quella poi. Basta poco però inserito in un contesto, che poi è quello che dicevano, essere presenti, esserci sempre a disponibilità e lanciare questa proposta, che poi con la trainante Don Daniele, Gesù, che è veramente la proposta più innovativa che si possa fare anche a distanza di tanti anni, i ragazzi poi hanno le antenne per percepire le cose belle, le cose vere, che poi è un po' il tema che propone anche tu quest'anno e nelle tre domeniche qui in che si mandi. Sì, anche questi video si parte da una canzone dei Coldplay, si partono da realtà che loro vivono tutti i giorni. Ovviamente il fine è arrivare a Gesù e se ne parla chiaramente. Ascoltano e capiscono che gli proponi qualcosa che è valido e che soprattutto per te che parli è valido. Se non ci fosse quello sarebbe una gran baracca, sarebbe una gran confusione, rumori, anche emozioni, però probabilmente se ne andrebbero un pochino col punto interrogativo. Cosa ci ha proposto questo? Una gran confusione, basta che accendo la televisione e trovo quella confusione. Hanno un'età che ancora hanno bisogno di tanto aiuto, ma hanno anche un'età in cui capiscono le cose che valgono e quelle che non valgono. Io punto molto quando parlo con loro. A volte li prendo anche un po' in giro, gli parlo del mondo di oggi, del consumismo, dei vestiti, del jeans. Non vuol dire che si liberano, ci sono dentro. Però li avvertono il limite e quando gli proponi qualcosa di più, addrizzano le antenne sicuramente. Fabrizio, proporre qualcosa di più, perché alle volte si dice magari di Gesù, glielo mettiamo alla fine dell'incontro, così non li spaventiamo. In realtà le vostre testimonianze dicono l'esatto contrario. La proposta forte, bella, che cambia la vita di cui i ragazzi sono alla ricerca, non solo di qualche momento per stare insieme. Sì, sì, infatti alcuni hanno bisogno di questo riferimento che gli sia sempre rinnovato. Perché, adesso faccio un esempio per tornare al discorso della chat di Whatsapp, il segreto poi di queste cose è darglielo in mano a loro da gestire. Cioè tu sei soltanto uno strumento, tu catechista, sei uno strumento. Loro stessi hanno voluto chiamarla il catechismo, la chat di Whatsapp. Nonostante io e Luisa abbiamo detto, ma dai, cerchiamo un altro nome, magari fantasioso, così. No, no, no. Il catechismo addirittura è con l'inconcina delle mani giunte in preghiera di piatto. È proposto da loro. Da loro, da loro. Da loro, da loro. Anche noi, come dicevamo, i contenuti o impegni non vanno trasmessi proprio di getto in maniera dura, nel senso che tu devi fare questo o quest'altro, ma devono essere trasferiti con la leggerezza che prende il cuore. Solo così c'è la chiave per coinvolgerli. E questo, insomma, un po' abbiamo preso in prestito la tattica tecnica di Don Daniele negli incontri con i genitori. Perché l'anno scorso noi eravamo in veste di catechisti che accompagnavano i ragazzi della crisi, ma allora abbiamo assistito anche noi in sala ai suoi video. E allora abbiamo usato la stessa tecnica nel nostro anno che è trascorso. Poi, avendo la fortuna che Don Daniele ogni tanto veniva a dare una sbirciata, ci guardava. Abbiamo visto che questa cosa funziona, piace, nel senso che se il messaggio è sorretto dal contenuto, ma è un messaggio che passa attraverso un video, una canzone, una cosa proiettata, la loro memoria ormai è fotografica, quindi devi passare di lì. Non devi vederlo come un elemento di detrimento, ma come un'opportunità. Forse questa è la grande anche sfida che spetta agli adulti. Nei nostri laboratori di speranza continuiamo a parlare di educazione, perché il nostro Loris ha incontrato, domenica c'era un ospite particolare, perché c'era il Presidente dell'Azione Cattolica Nazionale qui a Rimini, proprio per incontrare l'Assemblea Diocesana, Francesco Miano, che oltre ad essere appunto il Presidente dell'Azione Cattolica, è un uomo che sull'educazione ha fatto parte della sua vita proprio su questo tema. Allora sentiamo un po' che cosa ci ha detto. Oggi per il nostro laboratorio di speranza abbiamo la fortuna di avere qui con noi il Professor Franco Miano, Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. Ecco, per il nostro viaggio verso la speranza vorremmo parlare di famiglia e soprattutto della sua grande importanza. Ecco, Professor Miano, città, parrocchia e famiglia, come sono legate fra loro? La famiglia vive in un territorio concreto e in un mondo. In questo senso la parola città richiama l'interezza del mondo intero, con l'interezza delle sue relazioni. E parrocchia richiama quella concreta esperienza di Chiesa, quella Chiesa che fa casa con l'uomo, che vorremmo indicasse sempre la vicinanza dei credenti, dei cattolici alla vita delle persone. Non sono mai tre ambiti separabili, sono concretamente l'interezza della vita. Si parla sempre più della famiglia come un bene insostituibile, però è soggetto a chiaramente alti e bassi. Quali sono le fragilità più grandi della famiglia? Beh, la famiglia è un bene prezioso ed insostituibile. Tuttavia, proprio perché prezioso, è anche un bene molto delicato. Per questo è un bene che ha bisogno di cura, di cure. Di cura in senso positivo, prima di tutto. C'è la cura da parte dei suoi componenti, la cura prima di tutto da parte dei coniugi, la cura da parte di ogni componente della famiglia, ma anche la cura che deriva dalla Chiesa e che deriva dallo Stato. E in questo senso direi che la fragilità della famiglia oggi, da un lato, è iscrivibile alla fatica che fanno oggi tutte le relazioni importanti. Perché in questo tempo, fatto di velocità, fatto di processi di repentino cambiamento, molte volte in questo repentino cambiamento vengono travolte anche le cose che contano di più. Quindi, in primo luogo, la famiglia è esposta a questo processo di cambiamento. Dall'altro lato è esposta ad una sostanziale disattenzione da parte delle istituzioni pubbliche, salvo tante lodevoli eccezioni. Perché è chiaro che il sostegno alla famiglia passa attraverso delle politiche fiscali, legislative, delle attenzioni ai servizi, che in un qualche modo ne facilitino la vita stessa. Anche perché la famiglia è risorsa contemporaneamente per la società, non è solo un onere per la società, ma è prima di tutto una preziosa risorsa. Perché la famiglia è scuola di vita comunitaria, è scuola di cittadinanza, è anche fondamentale per l'organizzazione della realtà di uno Stato. E si potrebbero dire moltissime altre cose, questo è solo a titolo di esempio. Ecco, quindi, in una società del genere, quali sono le sfide più grandi che la famiglia si trova ad affrontare? Le sfide sono, appunto, a mio giudizio, di un doppio ordine, due livelli. Da un lato, il livello proprio delle relazioni, credere fortemente nella qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, di tutte le relazioni che compongono il nucleo familiare, quelle tra marito e moglie, quelle tra padre, madre e figli, quelle con il nucleo più ampio della famiglia, i nonni e tutti i mondi che vi sono intorno, credere nella qualità delle relazioni e coltivare queste relazioni. Perché oggi non sono più scontate, sono un bene prezioso che ha bisogno di tanta coltivazione. dall'altro c'è bisogno di una comunità e di una società che sostenga la famiglia. E quindi c'è bisogno, da un lato, di un profilo legislativo, economico, di attenzione alla vita familiare e dall'altro, e credo che questo sia il valore aggiunto che un'esperienza come quella dell'azione cattolica può portare, ma direi anche tutta la comunità ecclesiale, di far crescere la solidarietà tra le famiglie. Perché se è vero che certamente lo Stato ha dei doveri nei riguardi della famiglia, oggi non ci si può aspettare dallo Stato la soluzione di una certa serie di problemi. Credo che sia molto importante quella solidarietà diretta e indiretta che famiglie possono mettere in atto nei riguardi di altre famiglie. Cioè quella solidarietà che nasce dalla capacità di ascolto, di accoglienza, di vigilanza. E quindi la politica concretamente come potrebbe interagire con le famiglie? Perché la famiglia possa essere un tessuto importante per la comunità. Per noi come credenti la famiglia è un grande dono, è fondata su un sacramento, sul sacramento del matrimonio. Ma questo non significa affatto che la famiglia è solo un valore di ordine confessionale. Anzi, per tutti la famiglia ha un valore sociale inestimabile che va protetto, che va protetto attraverso l'attenzione alla maternità, l'attenzione reale alla maternità. Il rapporto tra il lavoro e la maternità, per esempio, è un rapporto che in Italia a fronte di una legislazione avanzata è ancora per alcuni versi problematico. Perché non c'è garanzia per le donne effettiva dal punto di vista degli sviluppi del lavoro, al di là del dato legislativo, ma nei dati di sostanza, penso in alcune aziende, penso per certe professioni. La capacità di sostenere le famiglie che si dedicano alla cura degli anziani, per esempio, per spostare poi ad un altro fronte. Cioè, ci sono una molteplicità di elementi della vita familiare che sono elementi che non riguardano la famiglia concepita come un'isola, ma che sono elementi che vanno a bene della società. Senza nuovi figli non c'è nuova società, senza attenzione agli anziani non c'è rispetto per la vita delle persone, senza quel patrimonio che rappresenta la tradizione familiare e, in certi casi, anche la capacità di una famiglia di costruire una posizione che poi, anche da un punto di vista economico, l'abbiamo visto in questa fase di crisi, di quanto le famiglie siano sostenendo per esempio l'autonomia delle giovani coppie, che stia sostenendo di fatto lo sviluppo stesso della società attraverso il risparmio di cui sono state capaci, per fare un altro esempio. Credo che ci siano tantissimi profili, come dicevo prima, di ordine legislativo, fiscale, economico, in questo senso politico, in senso generale, su cui riflettere, caso per caso però, attraverso quelle che sono delle specifiche prese di posizione su tanti aspetti che renderebbero la vita delle famiglie comunque più agevole. Ecco, lei ha scritto tanti libri e ne vorremmo citare due per approfondirne un pochino i messaggi. Chi ama, educa e responsabilità. Sembrerebbero due libri collegati l'uno con l'altro. Da una parte c'è l'educazione in quanto esperienza di relazione che necessita di passione e dall'altra la responsabilità, concetto fondamentale nella vita personale e sociale appunto delle persone. L'educazione, che è compito fondamentale delle famiglie, ma anche compito fondamentale della scuola, da un punto di vista ecclesiale, di una comunità, degli educatori, dei presbiteri, l'educazione non è solo fatta di competenze da acquisire. Le competenze sono fondamentali, ma al cuore vi deve essere una grande passione, che è la passione per le persone che in un modo o in un altro ci sono affidate. Senza un di più di passione, di amore, di generosità, il semplice profilo legato alle competenze, pur necessario e importante, rischia di essere parziale. Allora questo titolo, quasi uno slogan, chiama educa, vuole essere una provocazione, è una voluta provocazione. Come dire? Prima di tutto, impegniamoci sul fronte educativo con quell'atteggiamento di disponibilità, di dedizione nei riguardi delle persone che ci sono affidate e facendo crescere in questo senso un quadro di relazioni bonificate, di relazioni più positive. Poi su questo, naturalmente, per casi specifici è chiaro che sono necessarie le competenze, però la competenza di questo, di quell'esperto, pur necessario e importante, non potrà mai sostituirsi al compito specifico di ogni educatore rispetto alle persone che gli sono affidate, ai genitori rispetto ai figli, a un parroco rispetto alla propria comunità, a un insegnante rispetto ai propri allievi. Ciascuno si può avvalere di tutti gli aiuti e di tutte le competenze possibili, ma al fondo deve fare la sua parte e questa parte è una parte di responsabilità, cioè sentire la responsabilità per le persone che gli sono affidate, dove responsabilità non è prima di tutto un dato giuridico, ma è un avvertire, quella provocazione che gli altri che mi sono affidati pongono alla mia vita e quindi quella provocazione che mi spinge all'impegno, all'attenzione, alla cura. Ecco, c'è una profonda contraddizione nel tempo in cui viviamo. Da una parte sembra fare la padrona dell'individualismo e l'egoismo e dall'altra c'è il grande bisogno di relazioni forti che servono per costruire ponti. Ecco, ma come fare? Sicuramente questo tempo è segnato da un prevalere di dimensioni di separatezza e dunque alla fine di dimensioni egoistiche, di un certo modo di vivere la propria individualità. Credo che, come sempre, lo sviluppo della storia venga ad essere, per così dire, aiutato, per così dire, sostenuto da tutti coloro che sanno porre dei segnali di inversione di tendenza. La comunità cristiana può porre dei segni di inversione di tendenza nella misura in cui sviluppa proprio esperienze di relazioni autentiche. È vero che è più difficile dato l'egoismo imperante e tuttavia è più necessario. Cosa possiamo dire del bene comune che sembra una parola così, di un altro pianeta? Il bene comune è indubbiamente un'espressione bene comune è una delle espressioni più abusate, abusate dal punto di vista della politica, abusate a volte persino nella riflessione intra-ecclesiale. E tuttavia anche in questo caso il bene comune continua a rappresentare quell'orizzonte di fondo ineludibile per ognuno che voglia impegnarsi in una chiave non egoistica ma in una chiave effettivamente solidale è sensibile alle esigenze dei fratelli che voglia impegnarsi nella linea di una autentica fraternità. La ringraziamo per questa bellissima testimonianza e per questi spunti che ci ha dato su cui riflettere. Ringraziamo Stefano per il contributo tecnico e rimandiamo la linea in studio. questa è la testimonianza di Francesco Miano che sicuramente assolutamente può aiutare anche la nostra riflessione proprio in campo educativo e qui solleciterei i nostri ospiti anche all'altro versante i genitori perché insomma in questa opportunità di incontro con i ragazzi i genitori c'entrano quanto c'entrano ci vogliono entrare Lisa chiedo a te non è così facile però è fondamentale io credo se non si crea se almeno non si cerca di creare un rapporto con le famiglie è poi difficile anche avere i ragazzi in parrocchio a volte può succedere anche il contrario è che i ragazzi sono talmente motivati che tirano loro poi i genitori però soprattutto ancora nell'età delle medie anche il rapporto con la famiglia è importantissimo noi ci teniamo molto cerchiamo di contattarli spesso e anche di coinvolgere nelle attività è chiaro che è più facile coinvolgerli quando ci sono anche i ragazzi come diceva anche qualcuno prima che con incontri magari dedicati solo a loro però negli anni ho notato questo che si fa sempre più fatica magari al fatto che loro vengano in incontri organizzati ma non perché non abbiano voglia di lasciarsi coinvolgere ma proprio secondo me per i ritmi ferrenessi che ci sono quindi noi continuiamo a farli ma abbiamo privilegiato negli ultimi anni gli incontri anche informali perché ancora nell'elementare e le medie capita di vedere i genitori che accompagnano i ragazzi o li ritornano a prendere quindi abbiamo fatto in modo che anche come equipe c'è sempre uno di noi a disposizione dei genitori e ci fermiamo proprio in quell'ambito per cominciare a conoscerli perché abbiamo notato che poi quando ci conosciamo meglio è più facile coinvolgerli è più facile che poi partecipino alle attività proposte Lucia invece San Raffaele che proposta riesce a fare quale sollecitazione dà a questi genitori allora bisogna considerare che ci sono dei genitori comunque molto interessanti la voglia di stare insieme c'è quindi comunque hanno voglia anche di partecipare a cene a cose diciamo attività informali sicuramente e la proposta che noi facciamo da qualche anno a seconda anche dalla disponibilità degli educatori è di fare degli incontri ai genitori ai ragazzi e questo lo facciamo di solito in terza media per affrontare delle tematiche che stanno un po' a cuore sia ai ragazzi ai genitori e valutare un po' i punti di vista cioè come la vedono i ragazzi e come la vedono i genitori ci sono dei genitori che delle volte un po' si avviliscono quando guardano i figli perché dicono ma guardano gli interessa quello che io mi sento di dire che dico comunque ai genitori è che a questa età secondo me si semina e non si raccoglie si raccoglie più avanti quindi non ti puoi aspettare che le proposte che tu oggi fai da tutti siano accolte con entusiasmo quindi l'importante è che tu passi qualcosa che sei convinto di quello che vuoi trasmettere e poi dopo comunque anche il Signore ci mette le mani io dico quindi non siamo solo noi non sono solo i genitori e l'importante è che i ragazzi imparino ad avere il cuore aperto ecco e comunque questi confronti sono belli insomma delle volte sono anche comici perché i genitori e i ragazzi vedono le cose veramente in modo opposto delle volte Luisa ti coinvolgo in quanto mamma di un esatto di figli di questa di questa età com'è essere dall'altra parte cioè l'essere genitore in questo periodo della vita dei nostri figli e qui ce lo scoglio più duro perché la responsabilità è maggiore chiaramente i figli nell'età nell'adolescenza si vogliono distaccare dai genitori quindi il modello nostro viene un po' criticato anche quando noi facciamo servizio in parrocchia ci guardano sempre con un po' di diffidenza come se fossimo degli alieni per dire chi ve lo fa fare però noi cerchiamo di far capire loro che è importante quello che facciamo che insomma non è un'alternativa alla palestra ma è un servizio gratuito che facciamo in nome di Gesù perché ci crediamo con la speranza che poi loro percepiscano questa cosa che la comprendono loro non danno segnali cioè chiaramente rimangono abbastanza sulle loro da questo punto di vista però anche loro comunque seguono il percorso in parrocchia ci vanno quindi tutto sommato magari così non ci vogliono d'altra riguarda soddisfazione però insomma secondo me un po' capiscono dentro di loro che insomma è un cammino che si fa ma da mamma come hai vissuto questo passaggio dai tuoi figli bambini insomma da prendere in braccio come Anna a questa fase insomma così complicata anche per loro nella crescita allora sono soprattutto diversi maschio e femmina hanno tempi diversi modalità diverse caratteri diversi quindi proprio una tempistica anche nell'approcciarsi alle vere situazioni in maniera diversa però io uso sempre molto la tattica insomma così di essere molto così comprensiva cerchiamo sempre di trovare una soluzione alle varie cose io personalmente non riesco mai arrivare di petto alle soluzioni insomma o alle decisioni cerchiamo sempre di trovare una soluzione che possa in qualche maniera essere possibile per tutti insomma in modo tale che insomma piano piano anche loro capiscono le motivazioni che il papà è così accogliente disponibile sì sì infatti per questo ci comprensiamo bene io sono istintivo di natura quindi la conclusione con me arriva subito fortuna che c'è ma ti aiuta a fare servizio con ragazzi più o meno della stessa età anche da genitore lo dico allora sì nel senso che lì devi essere molto accogliente molto comprensivo quindi mi sforza a migliorarmi questo è sicuro però chissà perché finisce quel momento lì e poi arrivi a casa e le cose si trasformano ma volevo dire due cose per capire no gli adolescenti allora in una fase quando noi ci vedono che prepariamo in casa gli incontri o che ritagliamo i video no perché vogliamo fargli vedere questo e quest'altro allora il più grande ci fa ma fate tutte queste cose per i vostri ragazzi in parrocchia e lo guardiamo sì e poi se ne va e poi un'altra sera sempre un'altra domanda gli diciamo ma voi che ci vedete lavorare qui a fare cose secondo voi che utilità ha il genitore che si applica per questa cosa frase che ha tagliato le gambe la stessa utilità dei tombini è uno stimolo però abbiamo capito che ci tengono in maniera abbiamo capito che ovviamente lì la soddisfazione non ce la vogliono dare però comunque si accorgono che c'è qualcosa che avviene in casa e quindi è stimolante anche per loro vedere che il genitore in un momento sta preparando una cosa che non riguarda loro e loro si fanno la domanda ma per chi è se io sono qua prova con me magari se funziona anche perché la risposta in realtà l'ha data prima Luisa una frase straordinaria questo servizio non è un'alternativa alla palestra ma davvero qualcosa che viene da dentro perché siete voi che lo state vivendo in prima persona Don Daniele l'esperienza di Fabrizio Luisa non è molto praticata fino a molti anni pochi anni fa non molti marito e moglie insieme si dedicavano alla catechese o comunque al servizio educativo tu come la vedi invece la famiglia che si spende quando mi avete chiesto di cercare dei catechisti ho subito pensato a loro perché sono una testimonianza anche per me il sabato giro diversi gruppi e poi passo anche da loro e mi danno questa bella testimonianza e sono convinto che la danno anche al gruppo perché ogni bambino in casa ha una sua situazione bellissima rispettabilità però trova una seconda famiglia in quell'ambiente trova una figura paterna una figura materna li guardano li osservano poi leggo un po' su whatsapp a volte cercano anche un pochino di provocarli per il fatto che sono marito e moglie sono coppia ma questo gli piace ma anche i loro figli che frequentano altri due gruppi dopo crisi ma che abbiamo in parrocchia capiscono il valore di questo e non hanno loro come educatori ne hanno altri quando entro vedo che prendono seriamente è chiaro non è mio babbo e mia mamma però mio babbo e mia mamma fanno la stessa cosa quindi rispetto credo che possa essere anche una bella testimonianza per i genitori perché trovare una coppia che appunto spende il proprio tempo anche come testimonianza nei confronti dei genitori di questi ragazzi sicuramente può essere molto anche quello un'accoglienza ulteriore anche se poi l'incontro non è direttamente con loro e ora ci sono i nostri luoghi dello spirito oggi sai dove ti porto Paolo dove porto i nostri ospiti ma anche tutti coloro che ci guardano andiamo nella chiesa di San Bernardino un posto che molti definiscono proprio il cuore della città di Rivini perché lì ogni giorno per noi per tutta la nostra comunità pregano le suore clarisse ma oggi andiamo all'interno della chiesa perché scopriremo insieme alla nostra Daniele e a Alessandro Giovanardi storico dell'arte veramente un angolo prezioso di città che ci porta nella bellezza della pittura del Settecento vediamo un po' che cosa ci propongono oggi ben trovati a questo nuovo appuntamento dei luoghi dello spirito siamo ancora insieme come la scorsa puntata a un amico allo storico dell'arte Alessandro Giovanardi ci troviamo a San Bernardino nel cuore del centro della città di Rimini proprio in questa chiesa per parlare delle opere del lavoro di Donato Creti che ci sono presenti visibili in questa chiesa e Donato Creti sarà proprio anche l'argomento del prossimo appuntamento della Rassegno Maestri e il tempo lo ricordiamo venerdì 21 marzo alle 17.30 sempre nella sede della fondazione della Cassa di Risparmio che ha permesso poi la realizzazione di questi incontri così come gli altri anni dicevo argomento dell'incontro di Marco Riccomini Donato Creti malinconia e perfezione allora Donato Creti è presente Alessandro in questa chiesa con dei lavori importanti certamente questa chiesa è un piccolo gioiello della città di Rimini e sono anche molto onorato di poter parlare al suo interno tenendo conto che anche la fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha contribuito recentemente al restauro di alcuni aspetti importanti della chiesa stessa soprattutto della statuaria e che finalmente torna a essere pulita e splendida come doveva essere all'origine ma non nella chiesa che noi vediamo nella chiesa ferita dal terremoto del 1672 e risistemata alla meno peggio prima che fosse completamente rifatta nel 1755 iniziano a si inizia a raccogliere l'opera di Donato Creti e della sua bottega immaginiamo che questa bottega produce lavori per 20 anni dal 1732 al 1752 tre grandi pale d'altare del grande maestro felsinio bolognese Donato Creti il grande accademico maestro di eleganza proprio arbiter eleganziarum nelle figure mitologiche come nelle figure sacre e poi una pala del suo migliore discepolo Ercole Graziani Junior tutte pale a naturalmente tema francescano che mostrano miracoli estasi visioni dei grandi protagonisti di questa immensa avventura che l'Ordine Francescano ha realizzato nella storia della Chiesa nella storia anche della cultura occidentale allora di cosa possiamo parlare possiamo mettere in luce innanzitutto questo aspetto che lega insieme il desiderio della perfezione del pittore alla malinconia è un'idea che attraversa prima la cultura medievale poi quella rinascimentale chi cerca la perfezione interiore e perciò chi è adatto agli studi speculativi filosofici teologici ma anche all'ascesi incontra il favore sfavore di Saturno che appunto indebolisce anche l'animo il temperamento psicologico attraverso la malinconia da rinascimento in poi anche l'artista viene collocato in quella diciamo in questa costellazione e anche l'artista nella ricerca di una perfezione di bellezza che renda veramente leggibile il mondo religioso a tutti in una maniera cristallina nello stesso tempo deve comunicare negli affetti questi volti melanconici in qualche maniera feriti nella sensibilità dei santi grande sensibilità quindi detto però in una rigorosità classica possiamo dire proviamo a entrare nel dettaglio di un'opera per far capire un po' meglio anche a chi viene e chi verrà in questa chiesa che cosa deve e può guardare pensiamo a una iconografia classica del francescanesimo il santo d'Assisi riceve le stigmate è contemporaneamente un segno miracoloso un segno doloroso e anche una visione mistica una visione che va al di là dei sensi ecco Donato Creti si immedesima in questa pittura e segna che quest'opera è stata fatta da lui a 75 anni infermo di corpo in qualche maniera la malattia fisica viene assimilata alla sofferenza del santo cioè non si offre solo la bellezza la sua maestria ma la stessa sofferenza nel dipingere la fetica la vecchiaia viene tutto in qualche maniera trasfuso nell'opera stessa questa immedesimazione importante che rende l'arte sacra veramente qualcosa di vissuto e non semplicemente di calcolato al tavolo insomma e allora questo santo con il teschio il ceppo tagliato il libro aperto quasi non solamente ferito ma ciecato dalla visione caduto in deliquio da l'idea proprio di tutti i segni e i simboli che noi diciamo convenzionali ma che sono tradizionali del santo noi il teschio la meditazione sulla nostra finitezza il libro è comunque la scrittura cade a terra non perché è inutile ma perché la visione supera la parola ecco e dobbiamo immaginarci appunto una una commozione profonda sia di colui che dipinge sia di colui che guarda e contempla e prega ecco che San Diego un altro francescano con un poco di un olio di una lampada liturgica guarisce la cecità di un bambino quindi il miracolo di San Diego che forse è la pala più giovane 1732 e più bella di Donato Creti in questa chiesa verrà anche copiata in una maniera mirabile da Fra Atanasio da Coriano perciò un altro grande maestro dell'arte sacra del secolo successivo crea una vera e propria continuità ci dà l'idea proprio di questa perfezione e di questa dolcezza dei sentimenti è come dire che il verbo la parola di Dio incarnandosi prendendo corpo ha necessità di medesimarsi non solamente nel dolore nelle sofferenze ma anche negli affetti nei sentimenti nei pensieri nei sensi vista udito il tatto il gusto dell'umanità che circonfonde di nuova forza e tutto tutto i particolari l'olio lo sguardo tutto parla di questa presenza misteriosa del divino nel mondo lo stesso Diego che è immagine di Francesco a sua volta immagine del Cristo crocifisso vede nella sofferenza degli esseri umani il Dio misterioso che gli parla e il miracolo diventa appunto quello che dice San Giovanni Evangelista nel Vangelo segno non semplicemente fatto straordinario o fuori dalla natura tra i migliori discepoli di Donato Creti c'è sicuramente Arcole Graziani Junior che in questa chiesa ci lascia una pala d'altare interessante soprattutto sul tema della visione la madre di Dio in questo sogno di nubi appare a due grandi mistici dell'ordine francescano San Piero Regalato che appare appunto con questo cuore infiammato e Santa Margherita da Cortona accompagnata dal cane allora Santa Margherita da Cortona è un'estatica è come tale è oggetto interessantissimo per i pittori per i grandi maestri della controriforma del barocco anche del verismo seicentesco e poi anche di tutta la pittura veristica o barocco visionaria o classica del settecento ma San Piero Regalato con questo cuore infiammato che proprio dà l'idea della sostituzione del proprio cuore umano quasi diventato pietra con il cuore di carne di Cristo ci fa confrontare in maniera immediata con un segno con un simbolo che è tipico di questa lunga tradizione ed uno degli oggetti fondamentali della mistica e della contemplazione cattolica quindi il pittore rende disponibili visibili comprensibili e quindi meditabili tutti quegli oggetti che appaiono misteriosi nelle confessioni estatiche dei mistici rende quotidiani affabili i grandi santi e le loro contemplazioni benissimo noi ringraziamo sempre il professore Alessandro Giovanardi per quello che in questi pochi minuti ci ha potuto regalare di queste bellissime opere però lo ricordiamo chi volesse sentire di più insomma anche riguardo a Donato Creti lo ricordiamo venerdì 21 marzo alle 17.30 sempre nella sede della fondazione Carime Marco Riccomini proprio su un incontro su Donato Creti e sulla malinconia e la sua perfezione grazie ancora professor Giovanardi noi ci rivediamo per il prossimo appuntamento e questi erano i luoghi dello spirito beh insomma parlare di estasi fa sempre molto bene ne abbiamo bisogno a due passi da noi ma tutto sommato ancora molto da scoprire questo luogo sia per il valore artistico ma anche per quello per questo polmone spirituale che pompa dentro la città Lisa ma come ti è venuto in mente di fare la catechista? Io ho iniziato a 14 anni accompagnata da mia mamma e abbiamo fatto avevo preso un primo gruppettino di bambini di seconda elementare e li ho portati fino alla prima comunione e da lì non ho mai smesso e oggi che insomma dopo tanti anni che cosa è il dono più grande che ti dà questa esperienza? Sarà che a me piace moltissimo stare in mezzo ai ragazzi e poi tra l'altro ho scoperto di adorare quelli delle medie quindi poi magari quest'anno ho anche un gruppo continuo a seguire anche un gruppo del dopo Cresima che ha cambiato educatori però per quest'anno li seguo però la mia età preferita sono le medie non so perché sarà perché sono pieni di domande pieni di dubbi e a me piace capito proprio osservare i loro sguardi e cogliere dalle loro parole le cose io quando sono lì torno a casa che magari sono stanchissima perché ho dato il mille per mille ma ho una gioia dentro e non vedo l'ora di rivederli la settimana dopo quindi finché questa cosa sarà così continuerò a farlo Lucia per te mamma di due bimbi indaffarantissima lavori hai un sacco da fare eppure comunque trovi il tempo che cosa ti dà la carica perché vedo che comunque ne hanno bisogno e quindi dico vabbè io non ho tempo però penso no e quel poco che io gli posso dare c'è qualcun altro che glielo dà e comunque se non c'è allora dico vabbè è poco lo faccio io faccio quello che riesco a fare però comunque anche se è poco vedo che è apprezzato e la cosa che dà soprattutto a te la cosa che dà a me è che comunque ci si mette sempre in discussione cioè quindi magari uno pensa no e si fa anche un po' dei pregiudizi sui preadolescenti no invece comunque vedi dei ragazzi che dentro hanno una profondità grandissima e da fuori li vedi solo con il giacchetto fermato le scarpe fermate no e ti sembrano molto superficiali poi quando li conosci invece capisci che dietro di loro c'è un mondo la domanda così se ti viene in mente o anche qualcun altro di voi che vi ha messo più in discussione fatta da un ragazzo un giorno così a bruciapelo che però insomma sulla risposta avete tentennato un po' sentiamo siamo tutti preparati perché sono quelle cose di Fabrizio mi ricordo io c'era un video che aveva fatto vedere Don Daniele alla preparazione dei crisimandi dell'anno scorso che era quello dove c'era un papà che doveva salvare un bambino cioè doveva scegliere se sacrificare un treno pieno di passeggeri o purtroppo suo figlio e noi abbiamo fatto vedere questo video ai ragazzi e abbiamo cercato di spiegare che lì la metafora era Gesù che viene sacrificato però c'è stata una ragazzina che mi ha chiesto e tu cosa avresti fatto direttamente ma tu come genitore e io sono rimasto non ho saputo subito controbattere perché sinceramente come genitore non so se sarei riuscito a mettere giù la leva per far passare il treno poi forse alle volte è anche bello non avere le risposte pronte perché comunque danno quel senso di umanità che forse i ragazzi vanno cercando perché le risposte preconfezionate ormai le trovano un po' dappertutto non so Luisa se concordi anche perché poi non siamo a scuola dove bisogna veramente avere sempre la risposta pronta non siamo neanche noi professori insegnanti siamo genitori che si mettono a disposizione con la nostra umanità con le nostre debolezze limiti e noi cerchiamo di trasmettere l'affetto cerchiamo di trasmettere quello che noi pensiamo e nella maniera più semplice possibile e siamo certi con una grande forza la troviate e lo avete un po' raccontato nella vostra bella esperienza di fede noi come sempre ogni settimana proponiamo ai nostri telespettatori un appuntamento molto atteso quello per il commento al Vangelo della Domenica del nostro Vescovo Francesco in quel tempo Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui prendendo la parola Pietro disse a Gesù signore è bello per noi essere qui se vuoi farò qui tre capanne una per te una per Mosè e una per Elia egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra ed ecco una voce dalla nube che diceva questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento ascoltatelo all'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore ma Gesù si avvicinò li toccò e disse alzatevi e non temete alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo mentre scendevano dal monte Gesù ordinò loro non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti amici in ascolto benvenuti alla nostra consueta riflessione sulla liturgia della parola siamo alla seconda domenica di quaresima e la seconda tappa del nostro cammino quaresimale ricorderemo che l'evento delle tentazioni nel deserto si era concluso con il terzo assalto da parte di Satana nei confronti di Gesù l'assalto più suddolo e insidioso Satana condusse Gesù su un alto monte gli fece vedere tutti i regni della terra ma Gesù non si è fatto prendere dalle vertigini del potere ha respinto la tentazione oggi è Gesù che sale di sua iniziativa sul monte Gesù ci racconta l'evangelista Matteo che ci sta facendo buona compagnia in questo anno liturgico Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte Gesù che già ha vinto la tentazione di Satana ha superato le vertigini del potere ora sale sul monte e lì si trasfigura davanti a questi tre discepoli perché questa trasfigurazione in cui i discepoli restano abbagliati dal volto di Gesù il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce di questo grande evento abbiamo due filoni di tradizioni interpretative che sono quella occidentale quella latina e quella orientale quella greco ortodossa la tradizione latina legge questo evento come di fatto si è verificato e Gesù che vuole preparare i suoi discepoli allo scandalo della croce e allora cosa fa Gesù ecco anticipa per dono del padre per dono dello spirito anticipa quella che sarà l'esperienza finale lui sta portando i discepoli non tanto al calvario della morte della sua morte della sua passione del suo grande fallimento lo scandalo della croce ma li sta portando verso il monte della risurrezione ed è per questo che Gesù conclude questo incontro con i suoi tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni ordinando loro non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti ma dicevamo c'è poi l'altro filone è quello della liturgia e della teologia greco-ortodossa che dà un'interpretazione non tanto ascetica di questo evento ma dà una interpretazione mistica è l'approccio mistico di questa teologia cioè la trasfigurazione è la contemplazione della gloria che brilla sul volto del Signore perché la categoria del profeta incompreso Gesù che viene respinto da Israele come il profeta incompreso è insufficiente per spiegare tutto il mistero della vicenda dolorosa di Gesù e insieme anche della sua vicenda gloriosa insomma della morte e della risurrezione bene chi è allora Gesù? Gesù è il figlio del padre come la voce stessa che viene dalla nube e sappiamo che la nube è un simbolo eloquente e immancabile delle teofanie cioè delle manifestazioni di Dio anche nell'Antico Testamento la voce che viene dalla nube diceva questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento ascoltatelo ascoltatelo significa seguitelo dunque il padre si schiera dalla parte del figlio e chiede ai discepoli di fidarsi di questo figlio che li sta introducendo in un cammino aspro e affaticato e molto molto difficile perché richiede il rinnegamento di se stessi chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce in effetti i discepoli immaginavano Gesù vedevano Gesù secondo le idee le immagini di quello che potremmo chiamare l'immaginario collettivo del tempo vedevano Gesù come un re potente e invincibile invece Gesù si presenta come un servo umile e disarmato i discepoli immaginavano il Messia come un signore con molta ricchezza invece Gesù è uno che non ha dove posare il capo un Messia davvero povero e i discepoli immaginavano Gesù come un patriarca della molta discendenza e invece Gesù si presenta come questo servo del Signore celibe che non ha né casa né nido e saranno proprio questi tre atteggiamenti fondamentali di Gesù quelli che Paolo chiama nella lettera ai filippesi i sentimenti di Gesù cioè la povertà la obbedienza e la castità saranno proprio gli impegni che Gesù propone anche ai suoi discepoli ma non come dei doveri faticosi da assolvere né come dei pesi insostenibili insopportabili ma come i doni che gli fa proprio con la sua morte e la sua risurrezione a tutti i discepoli perché allora questa tappa della trasfigurazione per il nostro cammino quaresimale per proseguire questo cammino madre Teresa a chi le chiedeva ma come si fa a seguire un percorso di conversione madre Teresa rispondeva il frutto del silenzio è la preghiera il frutto della preghiera è la fede il frutto della fede è l'amore il frutto dell'amore è il servizio il frutto del servizio è la gioia ecco le tappe silenzio preghiera fede amore servizio gioia sono anche le tappe che la chiesa nella sua sapiente pedagogia propone a tutti noi discepoli se noi seguiamo questo cammino ne possiamo essere sicuri giungeremo anche noi alla gioia della risurrezione perché il frutto del silenzio se noi sappiamo smorsare tutto il frastuono di voci di rumori di clamori che ci viene dal mondo e ci viene tante volte anche da noi stessi bene allora noi ascolteremo la parola di Dio e ascoltare Dio che parla è già pregare è accogliere con abbraccio avvolgente la sua parola e rispondere con la preghiera il frutto del silenzio è la preghiera e la preghiera più grande è quella che ci fa invocare il dono più grande che è il dono della fede signore io credo ma tu aumenta la mia fede è il frutto della fede e la fede sappiamo è il credere che siamo amati è il sentirci amati non può che essere l'amore e il frutto dell'amore è il servizio perché come Gesù che si è lasciato amare dal padre che si è sentito totalmente amato il figlio mio l'amato come dice qui l'evangelista Matteo riportando la voce che viene dalla nube del cielo Gesù ha risposto all'amore con l'amore e quindi ha messo a disposizione tutto se stesso per il servizio al Vangelo alla bella notizia il padre ci ama e il frutto del servizio non può che essere la gioia Tagore in alcuni splendidi versi diceva sognavo e vidi che la vita era la gioia mi svegliai e vidi che la vita era servizio vogli servire e vidi che il servizio era la gioia buona continuazione del cammino cuaresimale e buona domenica a tutti per salutare e insomma anche per forse raccontarsi Lucia vorrei che chiudessi tu un po' proprio qual è lo spirito che senti possa davvero contaminare il tuo essere il tuo essere catechista e ogni giorno abbiamo sentito anche la parola del Vangelo qual è insomma anche la parola che ti accompagna perché io credo questo che solo per volontarismo non si spenderebbe gratuitamente tutto questo tempo ma sicuramente a me il brano insomma del Vangelo che mi torna sempre in mente quando Gesù appunto dice quando avete fatto queste cose a quelli più piccoli di voi l'avete fatto a me quindi comunque il tempo che si dedica ai ragazzi è il tempo che si sta con Gesù insomma noi non non lo facciamo se uno lo dovesse fare a stipendio non lo farebbe nessuno si fa per vocazione secondo me il catechista l'educatore la vocazione la sentite questa vocazione Luisa cioè la sentite proprio come parte integrante della vostra famiglia sì la sentite come mamma quindi mi sento un po' la mamma di questi ragazzi anche se nelle medie non vorrebbero avere mamme tra i piedi però mi sento un po' anche delle volte di rapportarmi con loro in questa veste qui e questa vocazione di mamma comunque mi aiuta ad avere quella sensibilità che magari delle volte con i ragazzi bisogna avere perché bisogna avere molta pazienza bisogna essere molto indulgenti e delle volte magari avere anche sì sapere dire anche di no delle volte sicuramente però sempre con molta pazienza la tenerezza delle mamme la tenerezza delle mamme ma quanti sono i catechisti in diocesi a Rimini? tanti tanti mi ha fatto il censimento super nel migliaio insomma ce ne sono davvero tanti quindi insomma comunque da questo punto di vista possiamo davvero parlare di una diocesi educante sì davvero davvero e poi al di là del numero è la qualità e ce ne rendiamo conto qui i miei confratelli preti lo sanno bene nelle parrocchie il catechista è il braccio del prete perché comunque con i ragazzi tutto il tempo ci sta la catechista e il catechista è un rapporto di fiducia tutte donne quasi sì quindi Fabrizio cioè c'è da portare avanti non tutte tante donne c'è da portare avanti un impegno anche sai quando si dice che è la figura anche paterna importante nell'aspetto educativo forse te la senti beh sì io diciamo che nella mia adolescenza ho avuto educatori maschi e se sono qui lo devo esclusivamente a loro perché io penso che l'incontro con Gesù avviene tramite un'esperienza che tu vivi con una persona cioè come dicevamo prima no? anche se un'ora la settimana ma comunque frequentemente anche in altre occasioni e passa sempre attraverso il volto di una persona l'incontro con Gesù quindi io quando avevo 16 anni per me e le mie figure di educatori sono state importanti e se sono qui appunto è perché voglio ridare magari minima parte per come sono capace la stessa cosa insomma e beh insomma Paolo vuoi chiudere con una pagina del ponte? una pagina con una bella storia visto che abbiamo parlato stasera di tante belle storie di questo esercito che dona la vita a Indioceso una storia di una famiglia in questo caso Silvio e Adriano grande momento di difficoltà dal punto di vista lavorativo scoprono di aspettare un bimbo e gli piovono addosso un sacco di consigli pro aborto invece la loro risposta dopo un percorso di travaglio è Claudio Benedetto e il 5 marzo un incontro speciale in Vaticano e beh con un amico speciale tutto cospirava contro e invece la vita ha avuto ragione grazie a Don Daniele grazie a Fabrizio grazie Luisa Lisa e Lucia grazie Anna ciao Anna e ora prima di salutarci vorremmo fare vedere uno dei video che sarà proposto proprio domenica ai genitori dei Cresimani un po' per toccarli un po' per sollecitarli è la storia di Martina Giangrande forse la ricorderete la storia del papà di Martina che è stato colpito da un'arma da fuoco davanti a Palazzo Chigi proprio nel giorno dell'insediamento letta di letta e insomma quel giorno davvero Martina mostrò subito un grande coraggio è passato poco meno di un anno da quanto è accaduto però insomma davvero la sua testimonianza tocca il cuore e oggi vogliamo chiudere così grazie per averci seguito Paolo noi ci ritroviamo la prossima settimana tra sette giorni proprio con i giorni della chiesa Giuseppe Giangrande il carabiniere gravemente ferito nella sparatoria di domenica scorsa davanti a Palazzo Chigi non rischia più la vita ma sull'uso dei quattro arti non è ancora possibile avere certezze in una situazione del genere o si è coraggiosi o lo si impara ad essere il fatto è successo alle 11.40 all'incirca io con papà ho riattaccato alle 11.35 quindi è stata proprio una frazione di minuti sembrava di vivere in una realtà parallele ho fatto no non è possibile dopo solo due mesi che anche è morta mamma ho fatto mi capita anche non avevo fatto nemmeno in tempo a realizzare la scomparsa di mamma che era troppo presto per poter affrontare un'altra cosa è stato un ottimo padre non posso dire nulla specialmente poi dopo la morte di mamma è stato vicino ci siamo stati siamo stati vicini a vicenda ci siamo aiutati a settembre avrebbero fatto 25 anni di matrimonio io sono una persona molto autonoma fin da piccolina lo sono stata sono sempre stata una ragazzina abbastanza forte però mai avrei pensato fino a questo punto mai avrei pensato di poter vivere da un giorno all'altro da sola di poter essere in grado di autogestirmi di poter gestire anche papà perché a questo punto io sono il suo bastone mai avrei pensato però molto probabilmente avevo qualche risorsa interiore che mi ha permesso di poter attuare tutto ciò io sono fortunata perché oggi papà non ci potrebbe essere quindi dico se già c'è devo avere la forza di poter andare avanti non posso permettermi di essere triste di abbattermi di farmi vedere da lui in quel modo perché anche per lui non è semplice io sono forte per lui se non lo fossi fosse neanche lui riuscirebbe ad affrontare questa nuova vita che speriamo che prima o poi si assesti e che vada avanti quindi devi essere io lo dico io sono fortunata non molta gente mi dice te non sei molto normale quando dice una cosa già hai fatto no invece no vi sbagliate perché io quella mattina potevo perdere tranquillamente anche lui di oggi forse sarei potuta essere orfana mi dà forza vedere papà che se lui è tranquillo sono tranquilla anche io sembra una cosa stupida però è vero perché se vedo che lui è tranquillo riesco a rilassarmi anche io perché penso che allora sono riuscita a trasmettergli la mia tranquillità io quando lui era a Roma era in coma l'unica persona che la psicologa e tutti gli altri dottori facevano entrare ero io perché io prima di entrare da lui mi disperavo piangevo ero triste però nel momento in cui entravo mi stampavo un sorriso sulla faccia che poteva essere finto per carità perché non era vero però a lui perlomeno lo facevo vedere facevo vedere che ero tranquilla e a lui quello serviva il coraggio è riuscire ad avere la forza di poter affrontare delle situazioni che sono più grandi di te secondo me poi con piangersi piangere tutto il giorno è uno spreco di energia totale perché siccome ne vanno via tante in 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 pietro in in Grazie a tutti. Grazie a tutti.